La scala a chiocciola è una metafora classica che ricorre di frequente nella storia del cinema, soprattutto per quel che riguarda il genere thriller e noir. Nell'ultimo film di Takashi Shimizu rappresenta di certo l'immagine più emblematica, rafforzata ancora di più dalla profondità della terza dimensione. La lunga scalinata che percorre per tutto il film Il Fantasma di Yuki, ragazza morta in seguita a un incidente in un luna park abbandonato, oltre a risultare estremamente evocativa, possiede infatti anche un significato simbolico. La salita cadenzata gradino per gradino, disegna un processo di progressiva immersione dello spettatore all'interno della storia raccontata e indica al contempo anche il percorso non solo fisico ma soprattutto mentale intrapreso dai protagonisti del film. I vecchi amici di infanzia di Yuki tornano in quello stesso Luna Park a dieci anni dalla scomparsa della ragazza. Qui saranno travolti dall'improvviso manifestarsi della presenza di Yuki, che costringerà ciascuno dei giovani a far riemergere ricordi rimossi e alterati dai traumi subiti. Takashi Shimizu ha rivelato sin dagli esordi una straordinaria maestria nella gestione di spazi e ambienti, capace di evocare un senso esistenziale di angoscia e inquietudine. Con The Shock Labyrinth 3D, il regista sfrutta la medesima abilità nella rappresentazione dello spazio per realizzare uno dei primi horror asiatici a tre dimensioni. Chi, tra di loro, ne uscirà vivo? Shimizu riesce in definitiva a rinnovare in modo convincente la tradizione dello psycho-horror nipponico, impiegando per una volta l'innovazione del 3D in maniera funzionale alle atmosfere e alle suggestioni del racconto.